Noi cristiani insieme alle donne e agli uomini di buona volontà e agli operatori di pace ripudiamo questo atto di guerra che si sta consumando in Ucraina e annunciamo la profezia evangelica della pace a tutti a chi ha posto direttamente questo atto di guerra e alle altre parti coinvolte chiediamo che si sospendano le operazioni belliche e riprenda la via del dialogo con l'apporto costruttivo di tutti delle diverse organizzazioni internazionali e degli organismi mondiali per parte nostra noi dichiariamo il nostro anelito alla pace e ci impegniamo ad esaminare noi stessi e a rinunciare ad ogni discordia e ostilità ad ogni attacco violenza verbale o fisica interiore o esteriore nelle nostre case e nelle nostre comunità civili e cristiane nei nostri contesti umani familiari sociali professionali culturali e soprattutto ci impegniamo a intensificare con tutte le altre confessioni cristiane e le altre fedi presenti qui a palermo la preghiera di pace per tutte le nazioni e i continenti e in particolare per l'Ucraina le logiche e gli interessi particolari nazionali o continentali non vanifichino il grido della terra e dei miliardi di donne e di uomini che la abitano nell'amitezza ripudiando la guerra e costruendo ogni giorno la pace per questo ci ritroveremo tutti insieme sul sagrato della nostra cattedrale venerdì 4 marzo alle ore 21 per chiedere che la luce della pace prevalga sulle tenebre della guerra grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti